Signori, Frank Parisi! Accetta, dieci anni di carcere per il diritto d'onore! Certe decisioni dobbiamo prenderle insieme. Marco è un bravo ragazzo, fidato. Vedrai chi fa la strada. Bravo Marco. Vai, vai. Perché la strada è lunga. Si a carne vale, non so che fare tu. Vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina. Sei così seria da star male, non so dirti una parola. Non ho niente di speciale, ma se ridi poi vuol dire che una cosa alla prima. Posso picchiare? Non è più. Ciao! Capo, sono scappato! Capo, ma che sei scemo! Vuoi farci saltare per aereo tutti quanti? Non sai che mi sudano le mani, no? Ma perché non ti sei messi i guanti? Perché l'ho lasciata a casa. Ma quali? Quelli gialli per lavare i piatti? No, quelli verdi che mi hanno dato per facciare per la mano. Se ricordano i ricordi, come cani in un cortile. Se puoi rimani, vido a domani qui. Chi paese? Capo, lui! Cuociono i rinfori! Ah, non so. Tutte le mani qui mi hanno dato per la vita. Sì. Capo! 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 Ma certo capo, ci ho pensato io Allora, ti ricordi? Sì, sì, erano sei Ne ho consegnati cinque e uno l'ho messo lì Ok, guandagalo, vai